Lo sport e la scuola sembrano a primo impatto viaggiare su due mondi paralleli, ma in realtà vedono entrambi nell'insegnamento e nell'educazione le principali finalità. Valori che saranno rafforzati dal progetto che la Vispesa era proposto alle scuole superiori della città. Allo stadio con classe nasce infatti dall'esigenza di promuovere sia una cultura sportiva che pone al centro l'etica dello sport, che quella di educare i ragazzi di oggi a rappresentare una nuova figura del tifoso, nel rispetto degli avversari e dei valori umani e sportivi. Un'esperienza formativa dettata da un ciclo di incontri nelle scuole del territorio che vedrà la luce nei primi tre mesi del 2023, per una durata complessiva di tre anni. Consiste in lezioni che condivideremo con dei personaggi importanti del mondo dello sport, del calcio in particolare, con dei professori che renderanno con noi delle lezioni che si svolgeranno all'interno delle scuole medie e superiori. Alla fine del corso gli studenti dovranno scrivere un elaborato di massimo 2000 battute che verrà giudicato da una commissione, che premierà i 10 migliori con un abbonamento omaggio per assistere alle partite casalinghe della Vispesaro per la prossima stagione. Tutti i ragazzi che parteciperanno a questa iniziativa potranno entrare allo stadio con un prezzo veramente più che agevolato, più che simbolico e la laurea virtuale dell'Università di Urbino, quindi laureati in tifo, in campioni di educazione e di fair play. Un'idea orientata non solo alla teoria ma anche alla pratica, perché quei valori che durante le lezioni i professori esterni cercheranno di trasmettere agli alunni dovranno essere portati anche sul campo. Gli istituti partecipanti potranno infatti iscriversi con una propria squadra ad un torneo organizzato dalla Vispes, dove il risultato finale non sarà decretato solamente da chi segnerà una rete in più dell'avversario. Soprattutto conterà come punteggio finale i valori che sapranno far vedere nel campo i ragazzi che parteciperanno in termini di fair play e di buona educazione. Il progetto verrà ufficialmente presentato giovedì 10 novembre alle 11 al Palazzo della Prefettura di Pesaro, alla presenza del prefetto Ricciardi e di ospiti dal calibro importante, come il CT della Nazionale di Calcio Roberto Mancini, il presidente della Vispesaro Mauro Bosco, il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli e la storica penna della Gazzetta dello Sport Luigi Garlando.